Presidente, l'IS 2021 il Salone ha come filo conduttore il PNRR, con quali obiettivi? Quelli di riunire gli operatori e gli stakeholders in queste due giorni, quella di riunirli intorno a una discussione di tavole rotonde avente per oggetto temi di interesse di attualità e consentire alla Silea, l'associazione nazionale, di lanciare i propri messaggi facendo sentire la propria voce. È anche l'occasione per le società di leasing per riflettere del proprio mondo, delle proprie sfide, delle opportunità e anche delle criticità. Quali sono i temi più di attualità? I temi di attualità è di rivolgerci al mercato, spina dorsale del paese, artigiani piccole e medie imprese per dire loro che noi siamo e saremo sempre al loro fianco, per parlare al potere legislativo dando le nostre indicazioni e presentando le nostre istanze, parlando al mondo delle banche perché le banche, tolto la situazione di captive per il settore auto, le banche sono le azioniste delle società di leasing e poi parlare all'organismo italiano di contabilità per l'IFRS 16 che è una minaccia nel caso venisse esteso anche alla spina dorsale del paese. A proposito di banche, il salone si è aperto con la storico intervento del presidente di Abbi, Patuelli. Questo è un evento storico, non si era mai verificato prima che il presidente dell'Abi rendesse visita alla Silea. Come ho detto prima e come ho detto lui, io sono stato veramente lieto ma soprattutto onorato della sua visita e della possibilità di fargli quelle domande, cui lui ha risposto con grande franchezza.